Continuiamo a parlare di Venezia 80 e non dei film in particolar modo, quindi non sarà una recensione o l'analisi delle premiazioni, però diciamo che una delle cose che hanno creato molto più caos, molta più confusione durante questa cerimonia sono state le affermazioni di Pierfrancesco Fabino, che era lì appunto per presentare il film in cui lui è il protagonista, ovvero comandante di The Angelis, che è il film che ha aperto a Venezia, e un paio di giorni dopo, quindi se non sbaglio il 2, invece è stato presentato Ferrari, Michael Mann, Adam Driver che interpreta Enzo Ferrari, al che Fabino si è espresso in maniera abbastanza aspra, dicendo che appunto un personaggio italiano deve essere interpretato da un attore italiano, e in realtà voi direte, è un'affermazione che ha detto lui, quindi la sua opinione, però la cosa che ha fatto più scalpore è che questa informazione è stata ricondivisa da tantissime persone dello spettacolo italiano, tra cui anche per dire pubblicavati, perciò adesso vi vorrei dire la mia, che in realtà è molto di mezzo come opinione, allora prima di tutto io non ho visto nessuno dei film, ho parlato con persone che hanno visto Ferrari e mi hanno detto che sì, ci sono diciamo delle intermissioni, ecco, si parla inglese tutto il tempo e poi c'è l'affermazione italiana, un po' alla Super Mario, ecco, per intercederci, tipo, papà, can you please go there? Per dire, quindi a volte si rientrano anche loro, quindi può essere un po' strano, poi doppiato non suonerà sicuramente male, però lì all'apprezzo può sembrare, allora, c'è da dire che queste affermazioni fanno molto meno scandalo quando si parla sempre di pelle bianca, questa cosa è assolutamente da dire, fosse stato di un altro colore, ecco, probabilmente ci sarebbe stata ancora più polemica, e questo non è assolutamente perché, secondo me, la bravura è internazionale, cioè tu devi essere bravo e la tua, appunto, interpretazione non deve essere forzata, per dire, la sede è netta, va bene, l'hanno fatta nera perché volevano, diciamo, volevano fare, appunto, questa trovata marketing, in realtà è stata molto buona, infatti, in realtà, Al Bailey è la cosa migliore di quel film, ma per dire, bianca neve, le sette cose che uscirà l'anno prossimo, che cazzo di roba sarà, quello è inclusivismo forzato, ma in questo caso, secondo me, invece, se vogliamo parlare, quindi diciamo che è tutto molto così, se lo vogliamo interpretare per accuratezza storica, dovremmo trovare un italiano, questo sì, ci sono anche alcuni attori italiani all'interno di Ferrari, se invece vogliamo semplicemente parlare di una revicitazione, quello che dovrebbe essere ogni biopic, non deve essere vita, morte e miracoli, se no vai a vederti un documentario, del personaggio, dal punto di vista autoriale, quindi di Mann, io sinceramente non mi lamento, quello che devo vedere, Adam Driver, certo sì, e sono paragonato molto, non per qualità, ma per uso dell'italiano ad House of Gucci, e quello sì, quella era una tortura orribile, perché, vabbè, oltre al fatto che gli attori lì prima hanno fatto un corso su come disimparare a recitare o non si spiega, tranne le gaga, lei non si va nemmeno prima, e quindi, e Jared Leto, ovviamente, vabbè, lui inanzi insegnava il corso, no, e quindi sinceramente, secondo me, è una polemica che, sì, è fatta appunto per semplicemente fare un po' di scandalo, però allo stesso tempo è interessante, e quindi io non mi trovo da una parte o dall'altra precisamente, perché dipende da film a film, una cosa però è certa, la bravura è internazionale, se tu sei bravo in America, lo sei bravo anche in Italia, se tu sei bravo a interpretare un americano, e sei un attore bravo, potrai essere bravo a interpretare anche, anche un italiano, e tra l'altro, io non vorrei dire, ovviamente, però Fabino, qualche ruolo al di fuori del, dell'Italia, l'ha fatto, eh, vabbè, prenderò una cosa stupida, l'ha fatto d'Artagnan, ricordiamolo, va bene che è comico, però comunque, non è un personaggio italiano d'Artagnan, eh, Fabino, adesso gli attori francesi erano a dire, no, è scherzo, Fabino è uno degli attori italiani migliori del periodo, quindi, che dire, semplicemente, a me ha affascinato di più, non quello che ha detto Fabino, ma il, diciamo, il riscontro che ha avuto, sia dalla parte del pubblico, che dalla parte, appunto, di altre star del cinema italiano, di altre figure importanti del cinema italiano, quindi, voi che ne pensate? Fatemi sapere cosa, appunto, pensate di questa, di questa, diciamo, disguido che c'è stato tra Adam Driver e Fabino, ah, cosa? Ah, ok, hanno appena annunciato che Adam Driver interpreterà Pierfrancesco Fabino all'interno del nuovo film, Fabino, che uscirà l'anno prossimo, signori.